Siamo qui con Vincenzo Romano, autore di una tripletta, un man of the match. Vincenzo, negli ultimi turni hai giocato poco, oggi invece sei in campo dal primo minuto. Sì, ho avuto momenti di sbandamento anche negli allenamenti precedenti, per un insieme di fattori, perché non sono stato anche bene dopo la partita della battipagliese, per tante cose, diciamo non ero al massimo della forma. Ora mi sono messo sotto, perché visto che il mister ovviamente non mi faceva giocare, non ho giocato due partite, mi sono messo sotto ad allenarmi, il mister mi ha premiato e io spero di aver fatto una bella prestazione. Oggi tripletta, l'abbiamo visto anche cattivo su ogni pallone. Domenica, da ricordare, la tua prima tripletta, speriamo di una lunga serie, in eccellenza. Eh sì, sì, è la mia prima tripletta in eccellenza, è il primo campionato di eccellenza che gioco, quindi sì, sarà da ricordare. Il secondo gol è stato tutto merito, sì? Un bel cross mi hanno messo, però il gol l'ho fatto io, quindi penso di sì. Grazie a tutti.